Non so che dire, sembra davvero che il clima è impazzito. Siamo a Bieste, 9 novembre 2018. Mentre c'è chi taglia la legna per riscaldarsi durante l'inverno, il nostro fico produce i suoi frutti. Beh, è una cosa veramente insolita, molto anomala. Forse è proprio vero. Il clima è impazzito. Che dire? A Natale ci mangeremo i fichi. A Natale ci mangeremo i fichi.